Come aggiungere una galleria fotografica e poi rimaneggiarla e inserire in una pagina con NestGenGallery Allora, ci portiamo nel menu laterale di Wordpress nella sezione Galleria Per aggiungerla possiamo andare e cliccare sul tasto Aggiungi Galleria Immagini E' possibile a questo punto aggiungere il nome della nuova galleria digitandolo in questa casella Inserisco il nome della galleria, una volta fatto, premo su Aggiungi una galleria A questo punto io posso caricare, ecco mi viene suggerito subito in questo piccolo riquadro giallo Il tag che dovrò andare a incollare nella pagina per far apparire la galleria Io me lo posso segnare o copiare e andare poi a inserire in un secondo momento Vedremo poi come fare, adesso concentriamoci sul caricamento delle immagini Vediamo che ho varie opzioni, carica con un file zip Importa cartella immagini, carica immagini Il metodo più comodo è caricare un file zip Per esempio, io ho una decina di immagini contenute in un file zip Che mi sono creata già in una mia cartella Ho fatto la cartella immagini, ho zippato l'intera cartella Adesso la carico tutta contemporaneamente Vediamo come posso fare Questi sono gli zip che ho preparato 11122009.zip Che se lo apriamo, vediamo che contiene tutta questa serie di immagini E queste altre due Proviamo a caricare il primo Clicco su carica un file zip Faccio sfoglia Prelevo il mio file Clicco su apri Scelgo la galleria E poi premo su avvia il caricamento Attendo che avvenga il caricamento Al termine del caricamento Avrò i seguenti messaggi Immagini caricate con successo File scompattato con successo A questo punto andiamo a vedere come Sistemare la nostra galleria Per far questo ci portiamo nel menu laterale Alla voce gestione galleria Andiamo a selezionare la galleria di interesse Cliccandoci Possiamo modificare il titolo eventualmente E possiamo applicare varie azioni Alla galleria Per esempio Vediamo che ci sono tutte le miniature Delle foto Se vediamo che qualche miniatura è sfasata Possiamo per esempio questa La testa di questa persona viene tagliata Possiamo andare sulla voce Cliccando qua Aprirà un nuovo menu Modifica la miniatura Vediamo che viene aperta una nuova finestra Dove fa vedere la foto intera E l'area selezionata per la miniatura Che in questo momento non va bene Noi possiamo riselezionare una nuova area Per esempio Questa Semplicemente disegnando sopra E poi Clicchiamo sul tasto aggiorna Una volta fatto Possiamo chiudere questa finestrina E vediamo che la miniatura E vediamo che la miniatura è stata correttamente aggiornata Possiamo applicare a ogni foto Delle didascalie differenti Questo è l'alt dell'immagine E quindi Praticamente è la scritta in sovraimpressione Che appare nei browser Quando ci si posiziona sull'immagine Quindi è Per intenderci Questa scritta 11, 12 Invece la descrizione sotto È una descrizione che Possiamo far apparire Sotto le nostre foto Per esempio Qua possiamo scrivere In moto raduno 11 dicembre 2009 Possiamo anche scriverlo sotto In modo da farlo apparire Proprio nella pagina E questo invece apparirà Solo nel testo in sovraimpressione Se l'ordine con cui sono state inserite le foto Non è l'ordine di nostro gradimento Possiamo anche cambiare L'ordinamento delle foto Per esempio Se io voglio che La prima foto dell'album sia questa Questa qua Come posso fare? Vado su Ordina galleria Vengo riportato In una pagina Dove vengono mostrate Tutte le immagini Posso prendere un'immagine E trascinarla Per esempio Voglio un'immagine in prima posizione Per esempio questa Voglio che vada in prima posizione La trascino E la sposto Una volta trascinato Premo su Aggiorna disposizione ordine E questa immagine andrà A posizionarsi per prima Una volta che ho terminato Tutti i miei passaggi Posso tornare alla galleria Premendo ritorno alla galleria E vedo che ho un menu Dove posso anche Eseguire delle altre azioni Per esempio Posso Eliminare Un gruppo di immagini In modo rapido Prima le seleziono Flaggando Le caselline delle immagini Che voglio eliminare E poi Scelgo dal menu Cancella immagini E poi Premo su Applica Oppure Posso spostare In un altro album Per esempio Quindi Sempre seleziono Sposta su Una volta che Premo Applica Mi verrà richiesto In quale album Spostarle Posso eseguire Tutta questa serie Di operazioni Una volta che ho terminato Cosa devo fare Devo andare A inserire Quel codice Che abbiamo visto prima Che avevo copiato All'interno Di una pagina Come faccio a sapere Per quale album Devo inserire il codice Allora Gli album sono numerati E hanno un identificativo Chiamato id Per esempio In questo sito Abbiamo 14 album E io basta che Voglio fare l'album Per esempio Sui funghi So che l'identificativo Dell'album È il numero 5 Quindi dovrò andare A scrivere Nella mia pagina Il codice E inserire Il numero 5 In questo modo Adesso qua Ho messo il 14 Voglio cambiare album Posso mettere 5 Questa è la galleria Classica Di Nest Gen Gallery Se esistono Molti plugin Aggiuntivi Che permettono Di applicare Degli effetti Flash Alle immagini Per esempio Flash Viewer Che è stato installato In questo caso Mi permette Di applicare Effetti differenti Alle gallerie Vediamo Senza effetti Flash La galleria Di Nest Gen Gallery È fatta In questo modo Se invece Vogliamo applicare Un effetto Flash Con Flash Viewer Dopo aver installato Il plugin Basta che noi Cambiamo Il codice All'interno Della pagina Per avere L'effetto Desiderato Vediamo Come fare Sostituiamo Il codice NG Gallery Con Simple View Id Nome dell'album Che è per esempio Il 14 Altezza E larghezza 600 Questo lo possiamo Stabilire noi Abbiamo inserito Il codice All'interno Della pagina Aggiorniamo E adesso Andiamo a vedere La pagina Come è diventata Perfetto Ho creato Questa pagina Con effetto Simple Viewer Dove posso Scorrere le foto Cliccare Dalle miniature Oppure posso Scorrere In questo modo Vedo Le didascalie Devo ancora Aggiornarle Sotto E ho questi Simpatici effetti Flash Scorrere le foto Scorrere le foto Scorrere le foto